La mia assistente, il cappellino, vai prego, eccola qui, si intona però un po' poco con te, aspetta un'altra, facciamo così, bisogna fare una magia e rendiamo il cappello più bello, più intonato a te, vai, indossalo pure, no, anche questo non si intona molto, facciamo così, guarda, e ancora la magia, guarda che bella la magia, gialla, adesso si che si intona forse con qualcosa, vediamo, no, anche adesso non si intona molto, ancora la magia, la magia esiste, eccola qui, e wow, il cappello diventa verde e si intona con, non so, è qualcosa di verde addosso? No, non è che verde, guarda, facciamo così, eh, si intona, sicuramente, oh, lo, come, come il mio.